Benvenuti su procuratorecalcio.com, come sapete le nostre piattaforme hanno dei corsi attivi sempre per la preparazione al mestiere di procuratore e osservatore. Abbiamo creato anche la nuova piattaforma osservatorecalcio.com in cui c'è il corso specifico per osservatori e tanti mi contattano, la maggior parte di voi mi contatta per seguire i corsi, sia le video lezioni che avere tutto il materiale di studio. Ho deciso pertanto di dare un ulteriore servizio perché alcuni di voi mi contattano per non avere l'intero corso anche video ma solo il materiale di studio, che di solito io invio ai miei allievi con delle mail con allegati pdf. Ho deciso di poter fornire a chi me lo chiede specificamente il solo materiale di studio, quindi la sola documentazione che serve per la preparazione degli esami e un po' in generale anche per imparare la prassi della professione, con anche tutte le prove d'esame pregresse, già uscite, quindi le tracce d'esame vere e proprie che escono durante gli esami di abilitazione, a chi me lo chiede. Pertanto se siete interessati ad avere questo materiale, quindi ad acquistarlo, potete contattarci direttamente ai contatti che trovate in descrizione, in commento, in maniera tale che avrete tutto il materiale a disposizione che potrete stampare. Come sapete l'esame sarà ai primi di ottobre, ormai bisogna avere 20 giorni liberi dalla data di pubblicazione della data d'esame appunto e l'esame stesso, quindi oggi è 14 settembre e probabilmente si arriverà a fare l'esame CONI intorno al 9-10 ottobre. Ci vediamo nel corso, contattateci, un abbraccio.